Sit-in davanti al Tribunale di Teramo da parte del Comitato Azione Popolare che da anni si batte per la chiusura dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, dopo il fatto registrato nel maggio del 2017 quando fu disposto il divieto di consumo di acqua proveniente dall'acquifero del Gran Sasso nel versante Terramano. Situazione che si è riaccesa dopo il caso verificatosi lo scorso 8 giugno dove sono state rinvenute tracce di Toluene da parte dell'Arta nell'acqua che sgorga dal Gran Sasso lato l'Aquila in concomitanza ai lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale all'interno del traforo del Gran Sasso e che portò ad un'ordinanza di non potabilità emessa dal sindaco Aquilano ma subito revocata perché a distanza di tre ore il Toluene era scomparso. Noi torniamo a sostegno della magistratura inquirente e giudicante perché un nuovo episodio si è ripresentato, noi lo sapevamo, eravamo certi che doveva succedere prima o poi è ritornata la presenza del Toluene nella nostra acqua, altre volte erano altri derivati benzenici, siamo in estremo allarme anche se il rilievo di quantità sono minime nella nostra acqua non deve esserci nulla, queste sostanze trovate adesso e anche altre volte sono cancerogene, noi continueremo a bere la nostra acqua la continueremo a bere sempre perché non è sostituibile con nessun altro tipo di acqua, quella di bottiglia secondo noi è molto ma molto peggiore e una spesa inutile alimenta soltanto un mercato parallelo. L'acqua che noi abbiamo, il nostro oro bianco è unico e deve essere tutelata in ogni modo. Una vicenda su cui il comitato ha già presentato un esposto volto a fare chiarezza su una vicenda che rappresenta per il presidente Elso Castelli una recidiva di quanto accaduto a seguito dei lavori del 3 e 4 maggio 2017. È un fatto estremamente grave, si tratta di reati secondo noi, sarà la magistratura a valutare i singoli episodi, ci sono rilievi di analisi effettuati dall'arta quindi non è campata in aria, è evidente che se si sta a contatto dell'acquifero con sostanze pericolose prima o poi l'incidente accade. È destinato a ripetersi, l'acquifero è unico e come tale è stato nuovamente violato.